E' stata inaugurata nei giorni scorsi al Museo Archeologico del Castello di Torre la mostra fotografica Storie di Acqua e di Terra, il Palù di Livenza e la Pede Montana. Realizzata dal Circolo Fotografico L'Obiettivo, con il sostegno del Comune di Pordenone assessorato alla cultura e il patrocinio della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Caneva e Polcenigo, la mostra propone una serie di immagini che documentano gli ambiti più suggestivi e meno noti della Pede Montana, realizzate specificatamente per questa esposizione. La mostra avente per oggetto il sito archeologico del Palù ha diverse finalità, la prima è senz'altro quello di valorizzare il patrimonio archeologico, cioè i reperti del Palù presenti qui al Museo Archeologico di Pordenone e l'altra quella di valorizzare il sito archeologico del Palù che è stato dichiarato patrimonio unesco dell'umanità. Quindi è anche una prima tappa in una collaborazione che vedrà partecipare il Comune di Pordenone insieme a quello di Caneva e di Polcenigo per valorizzare sia il patrimonio di reperti sia il sito archeologico stesso con i nuovi scavi alla luce delle nuove scoperte anche che sono state fatte. Quindi è un'occasione importante e un ringraziamento al Circo L'Obiettivo che ha consentito di realizzare questa mostra, questa rilevazione fotografica di estrema importanza che documenta non solo, come dicevo, i nuovi scavi ma anche documenta il paesaggio e i reperti che sono contenuti nel nostro museo. La mostra rimarrà visitabile fino al 6 gennaio 2014. Grazie a tutti.